In occasione delle celebrazioni di chiusura del centenario della Lilt che si sono svolti a Biella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro della Salute, Orazio Schillacci, hanno voluto esprimere attraverso due videomessaggi la loro gratitudine nei confronti dell'ente che da cento anni rappresenta il punto di riferimento in Italia per la promozione della salute e della cultura della prevenzione oncologica. La Lilt, ha commentato il Presidente Meloni, è un pilastro nella promozione e nella diffusione della prevenzione oncologica e ha svolto un ruolo fondamentale nel corso di tutta la sua storia, in particolare in quei periodi in cui i media e la scienza non avevano quegli stessi strumenti che hanno oggi per informare. I suoi associati, i suoi volontari, sono delle vere e proprie sentinelle della prevenzione che sull'intero territorio danno una parte del proprio tempo, della loro professionalità per aiutare il prossimo. È la bellezza del volontariato, di quella vasta rete di enti di solidarietà sociale che innerva la nostra nazione e la rende da sempre un esempio da seguire. Ancora sottolinea il Ministro Schillacci, con i suoi cento anni di storia, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è motivo di orgoglio per l'Italia, un vero e proprio patrimonio da valorizzare. La prevenzione è centrale nel piano oncologico nazionale che abbiamo approvato di recente. In questo percorso, verso un futuro senza cancro, la Lilt può contare sulla mia vicinanza e su quella dell'istituzione che rappresento. Farà in modo che il sostegno e il contributo del Ministero nei confronti della Lilt siano concreti e tangibili. E i due videomessaggi sono stati trasmessi in apertura dell'Assemblea nazionale dei Presidenti provinciali e dei coordinatori regionali che si è tenuta alla presenza del Presidente della Lilt nazionale, Francesco Schitulli, e del Presidente dell'Associatismo provinciale di Biella, Rita Levis.